musica 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 bella ragazzi sono M200Scopier e sono in compagnia di M200Foul e M100Geen che sta giocando a Naruto esatto allora siamo qui per presentarvi un nuovo progetto le Top 5 Competitive Clips e praticamente questo progetto è una Top 5 che a differenza delle altre dovete mandare solo clip di Competitive quindi Clam Match o Scream l'importante non inviatecele se tu fate perchè lo capiamo e niente la qualità la qualità richiesta per le clip cosa la spiega M100P allora la qualità delle clip va bene qualsiasi tipo di qualità con qualsiasi scheda d'acquisizione va bene la Dazzle va bene Blackmagic EasyCup preferibilmente no bisogna capire cosa c'è nella clip e htpvr va bene non si truppate il formato che volete su piattaforme PC piattaforme no tutto tranne PC Xbox Wii e PS3 anche Nintendo DS sulla Wii non c'è l'online no c'è l'online vabbè non stiamo qui a giudicare su tutte le console praticamente basta che sia Xbox e poi la modalità come inviarci queste clip ce lo dice M100G dovete caricare il video su youtube come non elencato e viare un messaggio a DM200State con il link della clip caricata da voi ricordo su non elencato così la gente non può vedere se la mettete su privato non potremo vedere neanche noi la clip che ci state mandando esatto niente allora partecipate in molti un saluto da M100 Scorpio M100G e M100 Port bella a tutti